Ho una cosa importantissima da dire all'inizio di questo video Vai Non me la ricordo più Ma secondo voi, ma secondo voi sto DLC è bello Cioè aspetta, 25 euro secondo me ne vuole la pena comunque Per tutti questi percorsi sì, è un altro Mario Kart Cioè l'abbiamo sempre voluto da anni e poi quando esce veramente non lo prendiamo Per forza Madonna quando esce Mario Kart 9 se non siamo tutti online il primo giorno non siamo dei sudati eh Ma io do le dimissioni al lavoro, dico ho qualcosa di più importante da fare Devi premere x e y insieme e ti cagli addosso Ah davvero? No È uscita Tonks Per fortuna E anche questo non è più un video di Tonks perché avete detto già una parola Esatto A me sembra il panorama di Firenze con la ruota che gira Ah mi sembra un panorama di Firenze Quando ti cagli addosso Non molto vabbè Non molto Non c'è neanche più la ruota tra l'altro quindi non Non c'è più la ruota? Eh no era temporanea Devastante Eh non so L'hanno messa per Mario Kart Tour e poi l'hanno tolta L'hanno messa solo per Mario Kart Tour e poi direi che questa qua è la nuova Los Angeles Ah ok sì chiaramente Ma perché non mettono Roma? Chi è quello lì? La fake? Guarda tutti e tre qua i sudati I più sudati Questa è la prima volta che la vedo L'unico che conosce questi percorsi Allora l'hai fatto anche prima Flosen Tonks no se mi stai in scia ti becchi la mia banana E questo è il punto Eh oddio ho sbagliato lato Drake puoi lanciare quelli bussoli Siete dei maiali In faccia grazie Va bene Non a me Cosetto puoi venirmi in faccia Arrivo Lanciarmi le bussoli in faccia Arrivo Ok Lo sento una cosa diversa io Cosa sta succedendo? Zoom Bastarte Aiuto Ci sono grisciano ovunque Aiuto Guarda una preview del nuovo gioco di Mario Sport Mario Baseball Ne avevo sei Oh mio Dio wow No Chi è stato? È stato da Drake vero? Lo so che è stato da Drake No è stato Waluigi No è stato Waluigi Sì 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 Ma stavolta non ne avete i gusci blu Ero che il primo è un bot Non possiamo Cioè no No Non è un'opzione Mi rifiuto Chiedi troppo Io non ho mai avuto un guscio blu finora Ma Eccolo Qualcuno l'ha chiamato I primi due sono bot Non l'ho buttato io Mi raccomando però Davvero sono bot? Sì Cristo santo Ci siamo distrutti in realtà di noi Non riuscivamo più a passare No non è bot Gravier Oddio non sono un bot Siamo lì dai Freck è talmente avanti sempre che non sa chi sono io come giocatore Grav sei tu quello che sta sparando fuoco giusto? Sì Sto lanciando a caso Dovete ricordarvi che lancia la roba a caso solitamente Non c'è molta strategia A caso significa colpire me no? Oh no è cambiata la strada Perché quando no Ok sono terzo dai Chi ha lanciato quel boomerang? Frozen Io so questa mappa solo Guarda come ci prova Mi ha preso Bravo Freck Bravo No Sono quinto Non ho perso la mano Pensava ci fosse ancora un giro No no Le piste di Mario Kart Tour sono così Non si capisce quando finisce e quando inizi Casuale Se non esce Adrei Preparatevi a Baby Park Casuale 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 Io potrei riuscire Casuale Tramonto che vanno sopra la tua pelata e quindi accecano la persona che sceglie Guarda come ci prova Vai vado qua Ma dai Freck Eh sì Quelli più forti li devo Mi ha lasciato infatti eh maledetto Dovevo evitare il tipo timido No ho beccato il tipo timido Non era per niente timido Non era per niente timido quel tipo timido No Ti meno Non si vergognava per nulla Ma il ti meno non è un fiume Ah è molto breve che sta questo giro qua Double Ho lasciato per sbaglio la mia banana difensiva Upsi No Upsi Daisy Ma non c'è Daisy Upsi principessa Daisy Ma dai frozen Ma chi mi ha fregato il guscio Ma avevo lanciato dietro il boomerangs Ma The boomerangs No Una vendetta Ok No What the fuck Chi va preso con quello Freak No Oh Ero primo Sono improvvisamente settimo Incredibile Mario Kart in a nutshell Sì È vero Verissimo The true The true Mario Kart experience Oddio Struzzi L'hai lisciata da mezzo metro No 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 vai avanti Vai avanti Ok Dai The true Oh E il gioco ha deciso di darmi la moneta Come lo so Ho sbagliato Eh quando sei primo è così Eh perché sei andato proprio bene Che è successo Questo Cos'è questo Questi insulti venati comunque Tocs ma sei diventato il villain C'è un villain Certo Maledetto Però sta mappa è terribile Posso dirlo Cioè lo è Hai preso la mia La mia scia Maledetto Lo Siung No 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 Ho beccato Basta Sì Superato Graffier Alla fine È bellissimo perché ho visto Sono l'ottavo Ti ho beccato io Graffier Mi spiace Sono il secondo Finalmente Signorio facciamo un appuntamento al mese Con Mario Kart Noi ci siamo Ci siete Devo dire che il silenzio iniziale mi ha fatto mollare tipo ok la taglierò questa We live in a society Ho dimenticato come si accederà Con B Ah ma questo me la ricordo Questa me la ricordo Era in Mario Kart Wii mi sa Sì è anche nel set Ho sbagliato un sacco questa curva Ok quella faccuma lì non mettonata Davide Ma più o meno me la ricordo E infatti sono andato a prendere la roccia in faccia Oddio avevo sbagliato Oh quanto si drifta qua nell'acqua Eh no perché l'acqua ti trasporta tecnicamente Che bello il rumore del tubo Usa il tubo Perché ho l'audio acceso io chiaramente Sto assolutamente sentendo il rumore del tubo Madonna che villa in cui giochi ai videogiochi senza musica ma come fai Allora in passato era pure un motivo di necessità Adesso è perché sono scemo e non l'ho messa Eh ma poi ti serve anche su Mario Kart per riconoscere alcune armi eccetera Sì quando ti arrivano i cusci più addosso Non ho l'audio perché sto giocando da console e non tipo alquello schermo Allo specchio Gioi allo specchio Eh la speculare no Ok The dream che dream ha Ok Oddio Chiudo mi sta a fare La bomba di Frank in faccia No Tutti con il Boomerang Che balle il Boomerang Sono così indietro che non so dove si Ero secondo Sono sesto Mi sa che stai arrivando perché sento un pipiri pipiri Lo squalotons Il primo è un bot Maestruzzi No No se no è long È link Il link è forte qua Mi colpisce sempre lui Come ti ha beccato È un pusillan Eh non lo so La mia domanda è come non ho beccato gravier con il fuori fuori Non ho idea sono vivo e ringrazio il mio signore salvatore Frake Ok qualcosa mi ha colpito adesso Non ero io No io non ho colpito nessuno perché ho solo una banana Perché sono una brava persona dillo Guarda come si tiene la parola per il titente Nessuno Credo che quel commento di Frake sia per sottolineare in maniera passiva che è primo Ma senza fare un po' colpire nessuno Sì leggermente Ah maledetto l'Advig mi ha rubato tutti gli strumenti Ok mi va bene essere secondo dai Guarda chi ci ha provato Struzzi era Struzzi era Struzzi Noo Ma il link mi colpisce più oltre La cazzo di linea di Noo Non è più un video di Tonks Eh niente è video mio No finalmente è un video di Struzzi Aspetta questa è la terza quindi Sei a 45 e qui ci sei arrivato sempre primo Sì Deve arrivare molto più giù È arrivato il momento di dirlo Che sudato Oh no I sorci di Vancouver I sorci di Vancouver No 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 I sorci I sorci di Vancouver Questa mi sa di mappa di tour dove cambia tutto costantemente Sì È letteralmente Ogni cosa che ha riferimenti al nostro pianeta Nooo No Los Angeles Ma poi possono uscire anche quelle del DLC Ed è uscita quella del DLC Sì Comunque va bene Nel prossimo video andremo a Vancouver Ma qui Esatto Andremo solo a Vancouver Io non ci voglio andare a Vancouver Torneo mono Vancouver Vancouver è in Canada giusto? Ci vai tu a Vancouver Io non Sì Prossimo video sul canale i Freak In Giappone Vancouver Nooo Io l'ho detto Io l'ho detto che il primo poi sarebbe uscito secondo lui Vabbè almeno adesso la sappiamo giocare no? Sì 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 Mario Kart tira fuori il meglio di noi Sono un povero bambino senza genitori Maledetto FEDERIC 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 Guarda come adesso mi arrivano le sfere di fuoco addosso Ah tipo l'hai appena minacciato di spoilerargli il show Sì Beh tecnicamente li ho già spoilerato io quindi Beh minacciato avvocato Assolutamente intimato di non vincere Chi è primo? No nessuno 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 Non ti preoccupare Ma come mai triste se non eri primo? No Un altro? Maledetto Perché mi colpisci per poi andate a schiantare Ciao Davide Ma non mi volevo schiantare mi hanno spinto No le palle Ok No le palle No le palle Ma abbiamo un perfect qui Abbiamo un perfect Dai dai ti prego non mi sono passato adesso sono alla fine Ok dai terzo ma contento C'è il link secondo Ma direi che decisamente questo video è mio Beh sì direi Tutto tuo eh Però lo facciamo Vancouver Ah come è come pista singola Ok Sì facciamo una Vancouver Vabbè dai Argi per farlo Oh pari merito io e Drake E tu però perché sei sopra scusami Perché sono più bello Esatto Non lo vorrei dire No facciamo solo Vancouver No facciamo solo Vancouver E poi chiama il gioco Vabbè allora chi vince questa vince tutto Ah ok 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 No è vero Dato io ho tagliato il mio video e ho finito già prima Nooo Sapete che ho appena scoperto che potevo sceglierla anche io Ti prego dimmi che non ti sei scordato di premere LR Non hai premuto LR Ti prego dimmi che non hai premuto LR Non ha premuto LR per quello che non sapevo di avere DLC Allora questo è il quinto DLC No mi dice Ascoltami mi dice che lo devo comprare ma me lo fa usare solo perché siamo insieme Ma l'ho scoperto ora Sì ma Vancouver mi sta piacendo un botto Nuova mappa preferita Ma insomma Ma io non ho visto neanche come fate Chi ha messo la boh-bomba però Boh-bomba A boh-bomba Non vedo un cavolo Gia Gia Gioke da sole Più con anche lo schifo sullo schermo Non vedo nulla Chi è che mi ha lanciato due gusci Tre gusci Tre gusci Troc'è No 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 Fra non tirarlo Fra non tirarlo Miserabile Con quel culetto Miserabile Mi piace quando dici miserabile Cioè No no Ma perché no Godo No 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 Uuuu Mi servirebbe un brazzo Ho spagliato Chi è quello Chi mi è so passato Ma chi è secondo Chi è primo Io sono ultimo quasi Sono decimo Ma che è sta roba È Mario C'è un randomico BB Mario davanti Va bene No 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 Via Lasciamo vincere la CPU Così vince la CPU La gara È vero Vincere tutto la CPU Via No 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 Bastardi Miserabili Sono sempre io Cioè Non c'è bisogno Ho usato un controfiore io Basta Prontano Ho fatto tutta la gara primo Anch'io Ho sempre tutto secondo Ora sono sesto Sì ma è colpa di Frake Capito E lui è È arrivato E ci ha rovinato la festa entrambi Eravamo tu primo Io il secondo E sono i due che ci attaccavano con l'altra E poi arriva Frake Signore il problema è che qui The Drink sta per fare il Dream The Drink è il Dream E vince tutto E vince tutto Ho vinto Il video è mio ragazzi Oh no Ho un canale Ho un canale Ho vinto The Dream davvero? Sì sì Capito Ha vinto The Dream Ha vinto The Dream Allora ragazzi Grazie per aver vinto Ho vinto finora La realtà è il più bravo Allora ragazzi Grazie per essere stati in questo video sul mio canale Iscrivervi No no Tu carichi solo questa Solo l'ultima gara Come short magari E poi short Lo short Che finisce E vinci nel primo Bellissimo Ti prende E concluderei il video Dicendo Saka Grazie per la visione!